L'avvento di Nicola Zingaretti nel Partito Democratico doveva ricompattare la situazione ma sembrerebbe che il PD è di nuovo comunque nel pantano, diviso e dilaniato dalle lotte interne come e forse più che ai tempi di Prodi e D'Alema e più recente Renzi e Bersani. Lui aveva parlato di eliminare tutte le correnti interne, le fazioni, i signorotti, i capetti, quelli che nel territorio sono riconosciuti come dei piccoli signori della zona, del comune, della regione ma alla fine la tregua è finita e le varie fazioni sono all'opera una contro l'altra come e forse più di prima. C'è chi vuole vendicarsi dei torti subiti, i Renziani, chi andare a destra, Calenda, e chi a sinistra, Franceschini, e chi minaccia Scissioni, Calenda, e chi considerando Zingaretti un incidente della storia e che sta lavorando sotto banco e neanche troppo sotto banco per prendere il suo posto, ad esempio, Sala, il sindaco di Milano, pronto e lanciato per la grande politica parlamentare di Roma. Si pensava che la sinistra fosse guarita dalle divisioni di cui ha sofferto appunto la chiusura del Partito Comunista italiano. Questo centrosinistra, questo PD che doveva costruire l'unica e grande alternativa al governo adesso a quel mostro a due teste tra Lega e Movimento 5 Stelle che non ci azzeccano in niente. Ma tanti ci avevano sperato, creduto e li avevano seguiti fino in fondo. Ma quello che è strano è che loro stessi non si rendano conto che stanno buttando l'occasione d'oro e straordinaria che il destino gli concedeva. Non hanno capito che avevano cominciato tanti e tanti anni fa con l'anti-berlusconismo, l'anti-berlusconi. E l'anti-qualcuno non è una politica. La politica dell'anti non serve. Serve solo a far guadagnare voti all'altro, a questo anti che viene additato. Infatti più Berlusconi veniva denigrato, insultato, gli tiravano gli oggetti, più aizzavano le persone, ma le persone poche venivano aizzate, poche menti venivano plagiate da questo anti-berlusconismo, però la maggior parte prendeva le difese di Berlusconi perché è insito nell'animo umano prendere le difese del più debole. Questo è in psicologia, ma si applica perfettamente alla politica. E oggi cosa c'è? L'anti-Salvini, l'anti-salvinismo. E questo cosa sta facendo? Sta portando un'autostrada di voti al carroccio. I voti, quelli che arrivano al Partito Democratico, sono quelli del Movimento 5 Stelle che il Partito Democratico ha sempre considerato una sua costola, persone scontente che sono scappate di casa e che loro adesso cercano di rieducare prima di tornare a casa. Queste erano le parole di Zingaretti di molti, molti mesi fa, quando diceva prima che tornino indietro bisogna fargli capire cos'è la politica e come funziona. E dicevamo che in queste divisioni interne, correnti, fiumi, dentro il PD c'è chi strizza l'occhio ai grillini, come Fico, come Franceschini, come Sala. E poi Renzi, dietro, che sta cercando la sua nuova avventura con i fedelissimi come Laboschi, impegnata a tornare visibile sui giornali e sui social, cercando una specie di conflitto con Salvini che Salvini ne ha anche la calcolata. Ma tanti mezzi capi non fanno un partito e non fanno un leader. Tanti Franceschini, tanti sala, un partito piatto senza una gerarchia non va da nessuna parte. Ma Zingaretti in questi giorni dice ci vuole un partito che va avanti come un gruppo unito, una classe dirigente che decide tutta insieme, ma non funziona. Non funziona nelle aziende, non funziona da nessuna parte. Si può ascoltare e poi il capo deve prendere la decisione finale. Le decisioni collegiali sono utopiche. Pensare che 10, 20, 30, 100 persone possano decidere la politica del Partito Democratico attuale e futura non ha senso. Quando si fanno le riunioni, le convention, i tavoli aperti, aperti ai sindacati, aperti agli iscritti, non agli iscritti come ha fatto adesso Zingaretti, si può ascoltare, percepire le tendenze, i desideri e poi ci deve essere il capo che prende la decisione. Non c'è altra maniera. Decisioni collegiali potete provarci ma non funzioneranno mai e poi mai. Quindi tanti mezzi capi non faranno mai un partito, tante sinistre non faranno mai una sinistra, tantomeno una sinistra moderna e quindi competitiva. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo editoriale. Arrivederci.